Amarelli nasce nel 1731 a Rossano e rappresenta tuttora la più antica fabbrica di licurizia al mondo. Affonda le sue radici in Calabria, dove cresce spontanea la migliore qualità di radice. Dal bastoncino di legno grezzo alla licurizia pura, il nostro prodotto assume forme e gusti sempre diversi, racchiusi in piccoli scrigni testimoni di questo lungo racconto che diventa prodotto. Oggi l'azienda è indiscussa leader nel mercato nazionale, esporta in 26 paesi, promuove l'autentico ineguagliabile gusto della licurizia, fieri di essere fra i 40 laboratori in FICO. Perché FICO è il grande sogno di creare il più ampio parco tematico dedicato all'alimentazione, il sogno di raccontare la storia che c'è dietro ogni cibo e quel saper fare fra coltivazione e trasformazione che ha valorizzato la unica ed incredibile biodiversità di cui la nostra penisola è ricca. FICO perché Amarelli già nel 2001 pensò di aprire il proprio museo e la propria produzione e i visitatori e raccontare attraverso la produzione e il museo la storia affascinante della licurizia, un luogo vero dove assaporare, imparare e divertirsi. E si sa che i sogni da realizzare devono essere più grandi dei sogni già realizzati e per questo in FICO noi ci saremo.